chiaro chiaro disco trina mare in top e boh si voleva trollare quindi ma stavamo tutti trollando in champions select maiden mates quindi la partita sarà sicuramente difficile va beh, will try, I guess le disattiviamo la shot prima che mi viene una malattia che già in champions select onestamente mi è quasi venuta, se non mi è venuta quindi team of support, oriana mid, ok, la draft in realtà sembra abbastanza normale vi dirò cioè non è così drammatica, comunque qua ci dovrebbe essere gain potrebbe voler fare late invade, dovrebbe anzi io non so onestamente, avrei bisogno di una guarda sui raptor ah, non vedete? ah, scusate ragazzi sarà che l'ho... tiltato allora non ho cambiato scena upsi ora l'abbiamo cambiata sawi non è successo niente abbiamo solo guardato il river e... io ho chiesto una guard qua ma non me la stanno mettendo quindi sono un po' scared forse era meglio... esatto forse hai visto i player e la champions select e... il modo in cui si sono flammati hanno flammato era meglio non... meglio non vedere, meglio chiudere gli occhi onestamente delle volte vabbè, vediamo un po', vediamo un po' dai la draft non è tutto suppongono magari giocano decentemente, tryhard ora che siamo in game, siccome nessuno ha doggiato perchè non dovrebbero, no? dopo tutto ultimo bot contro jinnami non lo so, non mi sembra strepitoso come laneface però potrei sbagliarmi eh ah fuck, non sono riuscito a prendere il lupo lo devo spostare un po' vabbè, no big deal ok vediamo se chi mi ha invaso se la mia invaso sono molto fortunato ok nice, that's really really nice avrebbe dovuto sicuramente invadermi early on red start classico va bene vedrei... forse quasi invadere il caino ragazzi questo microfono lo devo bloccare se no... si sposta non carino potremmo invadere topside cain, early con brand perchè lui è indietro di ex rispetto a me quindi un'alternativa che vogliamo fare questo direi è particolare il mio top laner vabbè immagino sia ok lo stesso e cosa ho utilizzato? Kaino mi ha flashato, si guarda la bot però guarda il team a bot che performa e non delude let's go il grande trend, si un po' opinabili diciamo come giocata allora lei ha wardato il river potrei vediamo provare mid ah ma lei era senza flash allora non doveva cessare così un po' tonta morto pure il buon team è morto quello vuole fare l'obiettivo vuole fare se si lo potremmo contestare in teoria anche lui non ha ancora ricollato vogliamo provare a fare questo posso sicuramente posso sicuramente prenderne uno non so se voglio provare a prenderne più di uno in teoria Kaino è bot side quindi penso sia ok tentare ok nice bene 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 c'è anche Kaino lì quindi possiamo ricollare anzi faccio l'ultimo campo topside e poi vado a clearare il bot e magari cerco giuare per drake vediamo un po' l'ho cieca per il quarto è vero broken the greatest counterpick scacco matto proprio ok nice resettiamo Kaino era topside e va bene va bene per chilling abbiamo preso pure shadow mid prendo anche dark seal vai perchè alcune volte il jungle deve smettere il primo campo anche se gli viene dato l'aiuto perchè fai prima di livello 2 non cambia molto cioè ottimizzi un po' il clear ma questione di 1-2 secondi cambia un cazzo alla fine ok ora sono a livello 6 e inizio a a fare malino eh ma si è resettato? no vaga la rana mi rapporto oh vediamo vediamo a provare mid ci arriva riana i guess dovrebbe dovrebbe eh purtroppo all'ultima di Ryzen ci ho pensato onestamente cosa hanno utilizzato gli avversari? più che altro si è preso Fistax bella fragoloccia c'è Nami dietro dovrebbe essere ok uno per uno anzi forse no non muore Nami peccato ehm potevo giocarlo un po' meglio penso vabbè pure chilling anche perchè poi siamo 2v1 no? quindi in teoria in teoria in teoria dovremmo prendere qualcosa grazie lox come stai? ciao Andrea ciao a tutti quanti boys boh comunque mi sforzo ne ho messo ok ti ho messo le scarpe io scalo capiamo ragazzi capiamo ehm Kayn anche ha flashato abbiamo preso un po' di summoner vi dirò vi dirò cerchiamo di fare void sarebbe importante se team venisse all'obiettivo così ne abbiamo un 6 per ok nice siamo presi top ci facciamo obiettivo for free ok questo è really really nice ha anche gustato mi sa ride se sbaglio nice abbiamo proprio il cito zoe ok abbiamo item eeeh gli obiettivi li abbiamo presi ci manca il drago ci manca adesso ho un buon farm anche e train ha pure recuperato ha preso sia la killtops su su ride che questa su zoe quindi lui dovrebbe essere tornato in partita si si esatto quando ammazzi il terzo ti da l'avviso in cioè in game ti dice gli avversari hanno ucciso i tre cosi tutti insieme se ne ammazzi uno o due non appare niente non appare niente se abbiamo funghetti di teamobot se abbiamo funghetti siamo nel chilling solo non ho la R io quindi poi possiamo fare robe ma facciamo minima attenzione game con i mercury devo fare da solo devo fare devo fare da solo va bene ma secondo me possiamo addirittura le varie bot era io da fare le varie quella eh qua sta trollando cazzo ho appiazzato una warp e sbaglio ma questo che è patetico no è morto top nonostante che abbiamo dato un po' deprimente vogliamo provare ad andare qua è un po' deep però capiamo ma non dovrebbe arrivare Nami dai non vuoi che non passa Nami ma di che siamo eh che cazzo tre ore che stavamo aspettando onestamente bene alla fine alla fine nonostante la champion select e la draft of the flame l'unico che staventando è il top laner per il resto puo job a tutti smite ce lo conserviamo si I guess c'è l'herald l'ha finito eh capiamo si peccato peccato per il flash però vabbè secondo me serviva quella che si era curata può magari senza auto non moriva di bruciatura non so va bene siamo affidati 2800 2900 anzi eeeh rely 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 oppure sto no eeeh ryza no oddio in realtà contro gay non è male sai vabbè apposto così la zonia come secondo item zonia pure dovrebbe darla si è forte specialmente contro blue cane valido eeeh guarda bot cazzo sbagliato di die no flash cioè bello rely dai oh guarda oh il fungo ha 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 let's go ultimo supporto tra il tra i miei braccio tra il fungo è morta godo auto riflessato prendila prendila sta trota vabbè mi ha dato un po' di soldi di ward vai mettiamo torre potrebbe arrivare bubble di zonema se ci mettiamo giro il mio di qua non ho capito di aver fatto stride oh raghetto vogliamo buildare zonia adesso ci potrebbe stare alla fine non male non male eeeh not like this andiamo a contestare tanto abbiamo i funghi questa deve essere la nostra jungle in realtà adesso è un po' greedy però diciamo che si può fare lo stesso guarda come viene il signor timo vorrei fare attenzione al lato va bene abbiamo preso il flash di nami e non ci sono andato ci poteva andare trinda qua vabbè eeeh it's fine abbiamo preso anche la sua ulti prima il red per se è ok nella mia top set jungle potrebbero cercare addio brucia che senso non è morta ma si è morta qui stiamo a freddo ora guys quello vuole clearare la r cioè la roba di quella nice bene la flash anche genna eeeh a mani non c'è c'è Alla fine siamo i numeri 1, siamo ragazzi, imbattibili, incontestabili, avrei anche un po' di soldi, da un po', e in realtà anche 10 stack avrei da un po' di tempo di fucking Darkseal. Ma anche il barone se volete ragazzi, cioè... Anything, anything. Sono quello che ho il top da pushare. GG, GG. Reportiamo Trin, reportiamo Rihanna, reportiamo Teemo, e... basta. Nice, 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 chi l'avrebbe mai detto ragazzi, i game più improbabili. Con la draft Lercha e il Flaming Champions Select, alla fine abbiamo hardstompato. Però il team ha comunque flammato, la reportiamo, i Demo Rihanna, e invece il Trin la reportiamo perché ha troll piccato e presso le summer troll, eccetera eccetera, il gameplay era ambiguo. Questa non la reportiamo, ok. Ok, 1, 2, 1, 2, 3, va bene. Next. No snitch. Ma quale snitch? Oh, sti tossici in merda. Io sono contro la toxicity. направiti. utilitzati. Oz